Buongiorno a tutti, sono il W5 Eco Francia X-Ray Leonardo da Siena e oggi che è sabato 7 settembre sto attivando un lago è la seconda volta che attivo un lago nella mia carriera radiantistica e questo lago è il lago del calcione potete vedere qui in dettaglio l'informativa vedete io sono non proprio vicinissimo al lago però sfrutto la possibilità che dà il diploma di andare a circa 200 metri dal lago io sono qui a circa 100 metri vedete la postazione in questo momento oggi ho deciso per il lago soltanto per i 40 metri perché le stazioni italiane sono predominanti in questa attività come sempre il mio portate il mio entri delle portate 706 Mk2G la batteria il palo telescopico e il di fuori o portate faccio vedere anche il lago che è in linea d'aria penso sia a meno di 100 metri da questa chiusura qui con questa rete vedete il lago è laggiù qui c'è la diga è abbastanza famosa questa diga perché infatti aiuta la parte tra Siena e Arezzo per quanto riguarda l'irrigazione nella nostra provincia tutto qua io vi saluto grazie ancora buona attività in radio e 73 a 3